Dai cantuccini al miele, dal latte di mandorla ai torroni fino alla frutta, circa 10 aziende catanzaresi dei settori dolciario e ortofrutticolo hanno avuto la possibilità di guardare oltre i confini nazionali e presentare i loro prodotti a dei buyer coreani su iniziativa della Camera di Commercio di Catanzaro. Si tratta della Holding Sinseghe, società multinazionale leader nell'importazione e distribuzione in Corea del Sud e della società Global Hill, azienda coreana operante nel settore ortofrutticolo. La Sinseghe è una delle prime 10 aziende in Corea del Sud, nonché la proprietaria e anche figlia del proprietario del patrone della Samsung, quindi stiamo parlando di livelli molto alti. Oggi diamo la possibilità a 10 imprese calabrese, in modo di dolciare l'ortofrutticolo, di conoscere un buyer importante, poi ci sono i tempi commerciali, ci sono anche determinate normative, però cerchiamo appunto di poter dare una spinta a questa nostra economia della provincia. Un'economia fatta di storie e aziende che hanno bisogno di raccontarsi e presentare al mondo i sapori e le eccellenze della terra di Calabria, che si apre quindi a nuove occasioni di interscambio commerciale. Prima di tutto lavoro nel settore del desert, quindi il coreano è conosciuto fino adesso il desert francese, però sa che ha origine tutto il desert, cibo in Italia, quindi ho voluto venire a vedere, ricerca di nuovo il desert e ho voluto trovare qualche prodotto particolare e portare al mercato Corea del Sud. Sono curioso e molto interessante. Rossella Galati per la CNews24